Voglio presento casa mia. Siamo in quattro. Mia padre, mia mamma, mia sorella e io. Casa mia ha un soggiorno grande e luminoso. Ci sono divano, poltrona, la tv e un condizionatore. Ho un cucina. Mia mamma cucina gli alimenti deliziosi sempre in cucina. Ho un giardino, un ripostiglio, tre bani, tre camera da letto e tre terrazzi. Mia camera è buio, ma mi piace questa atmosfera in mia camera. Ci sono amadio. La coperta è cucina sul letto. Comodino, finestra e quattro. Mia posizione ideale in casa è vicino alla compagna perché posso ammirare i paesaggi naturali e godo l'ambiente silenzioso. Ciao a tutti.